Ciao ragazze, nuovo video, oggi finalmente con la Boll infatti siamo arrivati alla quarta serie perché ultimamente sto ricevendo tantissimi prodotti e con buon inci per fortuna dalle aziende come avete letto dal titolo l'azienda Cotton Plus ha inviato i famosi dischetti struccanti vi faccio vedere il contenuto del mio pacchetto ho ricevuto questo pacco con due tipi di dischetti struccanti questi piccolini, così, che si chiamano Dermo Plus con latte detergente, Solution 2 in 1 con estratto di aloe e carota e con vitamina E questo è il formato, come leggete, mini inoltre, sempre da formato mini ho ricevuto anche questo con estratto di argan e con vitamina E nel pacco vi erano anche due pacchetti pacco, vi erano due pacchetti vedete, questo è già un po' utilizzato perché lo ho iniziato a provare perché sono curiosissima, come sempre appunto c'erano altri due pacchetti il primo, che è quello che ho già utilizzato sempre Cotton Plus con estratto di argan e aloe con vitamina E quindi praticamente è lo stesso di questo però questo è in formato maxi e non mini, come questo qua e poi c'è il Cotton Plus sempre in formato maxi con aloe e carota quindi quello che assomiglia a questo che vi ho fatto vedere prima oltre a questo, naturalmente, l'azienda mi ha inviato questi Depliano una lettera di presentazione in cui mi diceva, insomma, che gli faceva piacere che provassi queste cose poi appunto ho ricevuto questo cartoncino con tutta la spiegazione di Cotton Plus ma la prima cosa che ho visto quando ho preso questo sono naturalmente gli ingredienti infatti proprio qui sopra non è riportato ah, è riportato pure sulle confezioni però qui magari mi era più comodo soprattutto confrontare i due inci ossia l'inci di quello all'argan e l'inci di quello all'aloe allora, leggendo un po' glicerina, argan quindi olio di argan aloe, eccetera carota, estratti ho letto che sono entrambi con buoni inci anzi, per dirvi la verità confrontando l'inci di queste all'argan è molto molto migliore rispetto appunto a questo all'aloe e infatti proprio per questo ho iniziato ad utilizzare la versione grande allora, come funzionano i Cotton Plus? praticamente si aprono in questo praticissimo modo così e come vedete sono tutti però con questo semplice gesto possono staccarsi per far sì che diciamo il latte detergente che è contenuto in questa salvietta agisca c'è bisogno di mettere dell'acqua allora, io ho notato che mettendo tantissima acqua quindi proprio mettendolo sotto il getto d'acqua così diventano troppo bagnati e non struccano in maniera diciamo adatta nel senso che essendo troppo bagnati il latte detergente non ha la sua azione appunto lenitiva e l'azione struccante quindi secondo me il modo migliore per utilizzarli è prendere appunto la salvietta metterla sotto proprio un filo di acqua e iniziare a struccarsi l'ho provato finora due volte e devo dirvi che mi sono piaciute abbastanza quando faccio trucchi pesanti devo utilizzare quindi sia sugli occhi che sul viso devo utilizzare almeno tre di queste perché cerco di utilizzarle due o uno per entrambi gli occhi e tutto il resto per viso e labbra mentre quando magari non metto il fondotinta come ad esempio oggi che ho solo un bel trucco bello strong sugli occhi come vedete sono riuscita a mettermi l'eyeliner grazie all'eyeliner quello a tre puntine di essence di cui vi ho parlato nel video haul e di cui vi lascio la foto qui di quell'eyeliner e giù il video perché ragazzi dovete prenderlo assolutamente perché non ha un buon inchi ma se sono riuscita io a fare una linea di eyeliner decente adesso devo mettere ancora un po' di mascara vuol dire che ci riuscirete tutte vi dicevo che se ho un trucco un po' più leggero ne posso utilizzare anche solo una o massimo due perché vado a struccare gli occhi e le labbra e il viso con la stessa perché la cosa bella è che il latte detergente diciamo agisce sia da una parte che dall'altra e quindi praticamente con una parte ad esempio si può struccare il viso o una parte del viso e con l'altra la bocca bene ragazzi con questo è tutto fatemi sapere se voi avete provato e soprattutto se avete trovato già da qualche parte questi Cotton & Plus su Instagram mi dicevano che no su Facebook anzi mi dicevano che li avevano cercati e che non li trovavano e che praticamente sul sito di Cotton & Plus che è praticamente questo www.cottonandplus.it troverete tutti i punti vendita dove sono distribuiti la ragazza mi diceva che li aveva trovati dai cinesi io non vedo l'ora di provarli vi farò sapere appunto la review in un video mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un like se vi è piaciuto il video e naturalmente vi aspetto alla prossima un bacione grande ciao